La squadra di Modica infatti si troverà di fronte al Paceco nell'ultima sfida in trasferta dell'anno e bisognerà immediatamente reagire al KO della scorsa settimana contro la San Cataldese, sia perché i giallorossi sono rimasti ancora in zona play-out quando si avvicina il giro di Boa, sia perché gli avversari di turno si trovano al penultimo posto e nella gara del prossimo 17 dicembre al Franco Scoglia arriverà anche il fanalino di coda, Isola Caporizzuto. I 90 minuti di domani fanno il paio proprio con l'ultimo turno casalingo perché i sei punti che la squadra di Modica vorrà conquistare a tutti i costi proietterebbero il Messina a quota 20, si spera già in zone tranquille. Le note positive per il tecnico biancoscudato derivano dai nuovi arrivi e dalla verve del solito rosafio che difficilmente perderà il posto in avanti dopo essere stato il trascinatore dei giallorossi nelle ultime settimane. C'è curiosità su chi sarà al suo fianco e si scatterà subito l'ora di Yeboa, colpo di mercato di metà settimana proveniente da Roccella. Intanto la dirigenza si coccola i suoi giovani con la soddisfazione espressa per le convocazioni ricevute da Meo, Polito e Mascari in vista dei primi stage di selezione per la rappresentativa di Serie D che prenderà parte al settantesimo trofeo di Viareggio. Piccoli sorrisi che potrebbero diventare ancora più grandi con due vittorie prima di Natale per trascorrere le feste con lo spogliatoio sereno e riprendere la risalita in classifica interrotta domenica scorsa.